Vorrei chiedervi la particolarità del film che raccolta di traumi, del modo in cui questi comunque vengono assimilati, elaborati o comunque non elaborati, la particolarità della struttura narrativa comunque è questo procedere sempre tra passato e presente. Io vorrei sapere se ci sono delle ispirazioni legate a questa struttura, ma in generale al tipo di racconto, e se in qualche modo questo tipo di struttura è legata anche al tipo di animo dei personaggi, perché comunque anche loro sono defragmentati. L'ispirazione quando ho scritto il testo teatrale era qualcosa che ho visto dentro la mia famiglia, quindi raccontava un po' il rapporto di mio nonno con mio padre, esasperato in mezzo a un fatto di sangue, ma in realtà il cuore era quello, era come il vecchio trattava Peppino, quindi nel film Marco lo sviluppa benissimo, questo si capisce, c'è questa sudditanza rancorosa, se vogliamo definirla così, che poi in qualche modo fa prendere una strada. e l'idea era scrivere una pièce che avesse come obiettivo occhio per occhio, ma che occhio per occhio non fosse fino a se stesso, ma fosse pagato a caro prezzo emotivamente, quindi non è semplicemente vendicarsi e quindi stare meglio perché ci si è vendicati, è sentirsi oramai talmente perduti da voler, come dire, soffrire insieme al proprio carnefice. Sì, ed essendo la storia una storia, diciamo, sostanzialmente lineare, quello che abbiamo fatto in scrittura è prendere il testo teatrale con questa sua linearità e trasferirlo in un in una struttura più moderna, con tre piani temporali diversi, in cui, appunto, come dicevi tu, era molto bella questa associazione, cioè la frammentarietà di questi personaggi è un po' anche la frammentarietà di quello che poi percepisce lo spettatore andando avanti senza mai sapere cosa accadrà e lasciando poi questa immane violenza nel secondo atto e poi nel terzo atto come se fosse un evento scioccante, violentissimo, che porta poi alle conseguenze che tu comunque già hai visto sui tuoi personaggi. E questo è stato un po' un grande lavoro di scrittura, proprio complesso anche, per riuscire poi a dare a ognuno di loro lo spazio e anche la credibilità. Beh, direi, non ho molto da aggiungere, però dal punto di vista proprio mio, di attrice, il fatto che fossero presenti questi flashback anche così caldi rispetto al nostro presente, a quello che viviamo noi in questo momento, come si apre il film, è sicuramente un po' una metafora del fatto che loro vanno comunque indietro a quel periodo, c'è un blocco di vita che è così congelato e rotto che ovviamente sì, sicuramente è una metafora giusta questo. A proposito dei personaggi c'è una cosa che mi ha molto colpito, è come se tu in qualche modo a un certo punto vorresti quasi entrare nello schermo aiutarli, cioè si sente una forte empatia con loro. Io ho notato che è questione veramente di minuti, di sequenze. Forse questo penso possa dipendere anche dal fatto che non sono disegnati come degli eroi cattivi che vanno a rivendicare il loro passato, ma come dicevamo sono un po' loro in crisi e in un dolore immersi, in un dolore fortissimo, quindi ovviamente empatizzare con delle figure che non sono i classici eroi da vendetta, ma hanno loro stessi veramente una grande crisi, penso che sia ovviamente più facile. Beh sì, sono d'accordo anche perché Marco in questo suo film ha descritto i deboli secondo me in maniera egregia e quindi noi spettatori spesso e volentieri chiaramente parteggiamo per i deboli e quindi io cito anche ad esempio il personaggio di Cacasotto che ha una tenerezza ed è sconcertante quanto è ingenuo, quanto è tenero, però allo stesso tempo quando vediamo che lui ordisce un piano e mette in atto qualcosa di intelligente e di gruppo perché, come dire, ordito insieme al gruppo noi godiamo del suo avanzamento, del suo fare un passo in avanti nella sua vita, infatti è, come dire, il personaggio forse più tenero che c'è quello che fa un po' più tenerezza. Sì certo, infatti quando tu metti in scena la fragilità e racconti quello e vedi le cause di questa fragilità, anche se sono personaggi borderline che all'inizio magari si spiazzano perché non sono raccontati come in genere si racconta nella presentazione di personaggi dove comunque hai la possibilità di appigliarti da qualche parte, sembrano un po' tutti senza speranza all'inizio. È quello che ti porta poi ad empatizzare perché piano piano invece ne scopri il lato umano e quindi è quella cosa là che piano piano ti porta lo spettatore ad avere, con un po' di pazienza, ad avere quell'affetto grande che alla fine veramente te li vorresti portare a casa e salvarli. Però in questo caso è una pazienza molto ben ripagata devo dire. Grazie. Un'ultima cosa, cosa vi ha lasciato questo progetto in termini che sia regia, scrittura, interpretazione? Allora intanto è un progetto molto viscerale e quindi come tutti i progetti diciamo non superficiali comunque a me ha lasciato un senso anche di vuoto perché avrei voluto continuare a lavorare su questo progetto, avrei voluto continuare a scavare, a girare, a lavorare con loro, con gli attori che sono stati meravigliosi. È stato tutto molto forte e io spero che questa forza, anche questo sentimento così di generosità che tutti hanno dato ma non soltanto gli attori anche tutta la troupe, tutti i reparti, spero si senta. Ecco e questo punto mi porta anche a sperare che quello che dicevi tu, cioè sull'empatia che il pubblico sente quando vede il film, effettivamente è stato grazie anche a un enorme lavoro che c'è stato dietro. Io figurati io l'ho portato in giro per tutti i teatri per vent'anni e quindi era nato come dire perché avevo una necessità a trent'anni di dire a mio padre guarda ti capisco e non fare con me la stessa cosa e quindi io ho ancora nei miei ricordi gli occhi lucidi di mio padre alla prima di questo spettacolo dove c'era pure Marco tra l'altro nel 2004 e quindi nasce in maniera viscerale per me è un proseguio naturale per il progetto e poi è emotivamente un rincontro con Marco Martani con cui e grazie al quale ho cominciato a mettere un piede nel mondo del cinema perché lui e Fausto mi chiamarono per scrivere Notte prima degli esami che è stato il primo film che ho scritto, è stato un grande successo e io grazie a loro ho messo un piede nel mondo del cinema che non mi apparteneva affatto e ho capito che mi piaceva quindi per me è il coronamento di un piccolo sogno e un rincontro meraviglioso con un amico storico ecco per me diciamo è stata un'esperienza che mi ha dato la possibilità di attraversare diciamo di fare proprio un immersione dentro tutto il range che riguarda un po la vendetta no quindi esplorare attorialmente questa cosa qui e scoprire che poi innanzitutto non è una cosa che dà sollievo e che forse appunto non è un processo indolore nel quale uno trae forza ma è qualcosa che forse ti devasta ancora di più ed è stato molto interessante da esplorare perfetto grazie